Un 14enne in sella ad uno scooter in via Bellini a fiume freddo di Sicilia è stato tamponato da un'utilitaria. I testimoni hanno raccontato che il conducente dell'automobile dopo l'impatto sarebbe scappato. Il ferito è stato ricoverato al cannizzaro di Catania in gravi condizioni. La Ocean Viking ha a bordo 572 migranti tra cui 183 minori. SOS Mediterranei chiede all'Unione Europea di coordinare lo sbarco. La nave si trova a sud della Sicilia in acque internazionali. Pretendeva soldi dalla sua ex compagna per non pubblicare sui social i videotte realizzati con lei un anno fa. Un romeno di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Raffadali nell'Agrigentino. Le accuse sono estorsione e revenge porn. I carabinieri hanno arrestato l'uomo mentre intascava 70 euro. Un 55enne di Mazzara del Vallo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione spaccio di stupefacenti. Pur essendo agli arresti domiciliari era in piena attività. I militari gli hanno trovato a casa 5 chili di marijuana e 36 grammi di hashish. Un uomo diversamente abile di 46 anni è morto nel mare di San Giuliano, spiaggia del Trapanese. Sono in corso accertamenti da parte della polizia ma l'ipotesi è che sia morto per un arresto cardiaco.